Di lotta per avere il Parlamento pulito Il wifi garantito ed uno stato di diritto Democrazia dal basso, liberaci dal canone Mandiamoli a casa, poi rovesciamo la piramide Non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile Zero emissioni, un'aria respirabile Dico no a ponte, no tal, sono sciagure Non si arrenderanno mai, ma gli conviene, noi ne pure Non siamo un partito, non siamo una casta Siamo un cittadini, punto e basta Ognuno vale puro, ognuno vale puro Siamo un partito, non siamo una casta Siamo un cittadini, punto e basta Ognuno vale puro, ognuno vale puro Siamo un partito, non siamo una casta Siamo un cittadini, punto e basta Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno Non siamo un partito, non siamo una cassa, siamo cittadini, punto e basta Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno, uno Come si sente? Va bene così? Sì, perfetto. Buonasera a tutti, sono Angelo Scaratti Sono il portavoce del Movimento 5 Stelle per Palazzolo Perché portavoce innanzitutto e non candidato sindaco come vuole l'usanza politica Il portavoce è semplicemente un cittadino che rispecchia quello che è il suo gruppo Poi si fa portavoce di un gruppo, quindi portavoce e non candidato sindaco Penso sia una distinzione molto significativa Per parlare del programma vorrei vederlo in un modo un po' particolare Nel senso fare una piccola riflessione su cosa è stato Palazzolo negli anni, nella storia Dove siamo arrivati oggi a Palazzolo? Abbiamo delegato per tanti anni E in un periodo storico recente, di un ventennio fa circa Dove stavamo bene economicamente, avevamo problemi finanziari molto minori rispetto ad oggi Potevamo permetterci tutto e i cittadini potevano permettersi anche di delegare alla politica la gestione del territorio Oggi purtroppo questo non è più fattibile Non è più fattibile perché lo vediamo sia in piccola scala, quindi a livello comunale Sia in grande scala a livello nazionale o addirittura internazionale Quindi è giunto il momento che i cittadini prendano coscienza di sé Prendano coscienza che il territorio in cui vivono lo devono gestire loro E devono gestirlo come un buon padre di famiglia Questa è una cosa molto molto fondamentale Necessitiamo di una visione Una grande visione per cambiare Palazzolo Fino a ieri era una città industriale Fortemente industriale è stata la piccola Manchester Grazie alla rivoluzione industriale portata dai Neigler, dai Küffer Nel novecento Poi siamo andati avanti sull'onda di questa forte rivoluzione industriale Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare, abbiamo lavorato, abbiamo generato reddito, ricchezza E abbiamo visto il nostro territorio crescere Creare servizi Poi quando la rivoluzione industriale non è più stata così efficiente L'abbiamo spostata in un'altra zona Abbiamo incominciato a trasferire le nostre officine meccaniche, queste cose, verso un'edilizia E quindi abbiamo fatto un'edilizia industriale Senza mai pensare a che cosa potesse succedere al nostro territorio I risultati sono sotto gli occhi di tutti Abbiamo costruito nell'ultimo ventennio In una maniera direi spaventosa Perché basta pensare prima degli anni novanta Sì, Palazzolo era edificato Però non è che fosse chissà quanto edificato Abbiamo assistito invece dagli anni novanta In modo poi molto più vivo negli anni 2000 Nasce proprio tutta una serie di edifici Che hanno determinato una Palazzolo diversa E oggi ci ritroviamo con una serie di problemi Che sono legati all'ambiente Sono legate a una povertà in costante aumento E abbiamo un tema importante da portare avanti Cioè poter vivere nei prossimi anni in modo dignitoso E poter creare un qualche cosa per le generazioni Che verranno dopo di noi Quindi Palazzolo deve fare proprio questo passaggio Deve trasformarsi da una città industriale O fortemente industriale In una società turistica Ma non turistica Giusto per dire turistica Ma sì apriamo la torre la domenica Ci mandiamo qualcuno a fare una girata No Palazzolo deve assumere un'identità propria Affinché venga riconosciuta A livello internazionale Come oggi viene riconosciuto Sirmione Come oggi vengono riconosciuti Altre località Che hanno identità turistica Questo per quale motivo? I soldi non li abbiamo più noi Ma li hanno altri Noi li abbiamo investiti Li investiamo ancora oggi In una direzione Che è L'energia Quindi noi investiamo su Dubai Investiamo sui petrolieri Investiamo Sempre fuori dal nostro paese Invece noi dobbiamo incominciare a investire sul nostro paese E a far portare agli altri i soldi verso di noi Palazzolo ha tante tracce storiche Partiamo da un'epoca romana Abbiamo un sentiero Un sentiero romano Che va ripristinato Va ricreato un collegamento con la Franciacorta Per poter sviluppare una sinergia anche con i comuni limitrofi Abbiamo le cantine più importanti d'Europa a livello di nome E sono qui vicino a noi Quindi è un potenziale che possiamo utilizzare E abbiamo l'obbligo di potenziarlo In più abbiamo la parte storica legata al periodo medievale Quindi riva e mura Che attualmente versano in una situazione di degrado abbastanza elevata Più reddito all'interno del nostro paese Lo dobbiamo fare attraverso appunto Una serie di vedute, di visioni Che possono andare al di là di quello che è l'attuale visione di Palazzolo Inoltre dobbiamo investire noi cittadini Sull'efficienza energetica degli edifici Che è uno strumento che ci permette Innanzitutto di identificare Dovremmo identificare bene quegli edifici pubblici Che necessitano di un intervento Di miglioramento Ci sono già tutta una serie di proposte in essere E ci sono già degli esempi da seguire Abbiamo la politica del Chiotto 2 20-20-20 A partire dal 2018 Gli edifici dovranno essere a zero emissioni Come risponderemo a questa normativa? L'Italia ha perso un treno Se perseveriamo in quella direzione A noi rimangono sempre le sanzioni E gli altri si arricchiscono Poi fino a quando il costo dell'energia Era molto irrisorio Il problema era relativo Oggi il costo dell'energia L'abbiamo visto È molto alto E sarà sempre più alto Nei prossimi anni a venire Quindi La partecipazione dei cittadini All'interno Di queste proposte di miglioramento E la loro partecipazione Possono contribuire Al raggiungimento appunto Dell'efficienza Ho un esempio Che mi passa nella testa La provincia di Bolzano Ha fatto un recupero Su una struttura pubblica Che è l'Exposta Era un edificio di tre piani Di circa 700 metri quadrati per piano 12.000 metri cubi Di volumetria Costo di gestione all'anno 90.000 euro Non pensiamo Bolzano E a Bolzano E in montagna E alto Basso La fa freddo No Bolzano Ha gli stessi identici gradi giorno Di palazzolo sull'olio Quindi vuol dire Che le temperature Si equivalgono Il risultato qual è? È che loro hanno fatto Un intervento di miglioramento Hanno alzato Questo edificio Di altri due piani Ed è un intervento del 2006 Di altri due piani E il risultato è che Le spese di gestione annua E di riscaldamento Sono passate Dai 90.000 A 4.000 euro All'anno Quindi se dovessimo subire Anche un aumento Del costo dell'energia Di un 10% Andremmo a 4.400 Se l'avessimo sui 90 4 per 9 fa 36 Sono tanti i soldi Che vengono Vengono specie 90 Su di un 10% Scusate Sono 9.000 euro In più Sono altri 10.000 E Tra questi edifici Stavo guardando Proprio in questi giorni L'Enrico Fermi Perché è uno degli edifici Di palazzolo Pubblico Dove ci vanno I nostri figli A scuola Che versa Veramente In una situazione In una situazione Molto Molto pessima Sia dal punto di vista Statico Che dal punto di vista Energetico In termini di volumetria Ricorda molto Il palazzo Della provincia Di Bolzano L'obiettivo Sarebbe quello Di recuperare Questo edificio Portandolo A essere Attivo A produrre Più energia Di quello Che consuma In modo tale Di avere Un guadagno Annuo Sul mancato Pagamento Dei costi Di riscaldamento E avere Anche un guadagno Per quell'energia pulita Che possiamo Produrre in più Questo è un risultato Sicuramente positivo I costi aggiuntivi Vengono ammortizzati Nell'arco Di circa Un cinque anni E Danno un contributo Che rimane Nel tempo Per almeno Un trentennio Alla cittadinanza E questo contributo Sarà sempre più alto In virtù Di quanto sarà Il costo Dell'energia Nei prossimi anni Qua dovranno essere Anche avviati Dei processi Di Riempiego Di quelle persone Che attualmente Hanno perso Il lavoro Quindi si dovrà Studiare Ad hoc Un progetto In modo tale Da poter Riempiegare Le famiglie Che attualmente Non hanno Un lavoro Dovremmo fare Un cambio Generazionale Cioè vuol dire Che quegli anziani Che sono ancora In salute Che hanno Un'esperienza Potranno partecipare Per trasmettere Il loro sapere E aiutare I giovani A crescere In una società Molto Difficile Un altro punto Importante Sarà La comunicazione Che dovrà essere Molto Dovrà essere Esternata Dal comune Non dovrà essere Solo all'interno Del comune La comunicazione Va fatta In tutto il paese E Con Direi A cadenza Semestrale Delle relazioni Ai cittadini Affinché Il cittadino Venga informato Delle scelte Che l'amministrazione Intende Intende fare Non mi dilungo Di più Lascio adesso La parola a Matteo Che vi illustra La restante parte Del programma E Grazie per l'attenzione